Serie B-Win, appassionati. Appassionati della Serie B-Win, una buona serata e ben ritrovati da parte di Luca Gregorio. Benvenuti al Gran Liggo dove Regina e Cesena aprono le emozioni della 31esima giornata. Gli Amaranto, a secco di vittorie da un mese ma imbattuti in casa nel 2013, vogliono risucchiare i romagnoli in zona play-out. Bisoli si attende però a una risposta d'orgoglio dai suoi, radici da tre sconfitte nelle ultime quattro. Dionigi squalificato gioca con Sarno alle spalle di Comi e di Michele. Del Cesena invece tandem offensivo composto da Succi e Granocci. Si comincia, buon divertimento. Palone profondo, occhio alla sponda, Granocci sbuca le spalle di tutti, prova il destro, Granocci! La deviazione di Facchin che spedisce in angolo. Sarno, la sua punizione, dentro Comi, grande stacco! Il vantaggio della Regina, dodicesimo, sempre lui, Gian Mario Comi. Bruciato Tonucci, infilato Campagnolo e il decimo centro in campionato per il ventunale attaccante Scuola Toro. Regina in vantaggio, 1-0. Ok, calcio di punizione, tocco corto, Djokovic, sinistro! E il pallone passa sotto il corpo di Facchin, non perfetto, è 1-1 al diciannovesimo. Torna in linea di galleggiamento il Cesena, quarto gol in campionato per il 22enne croato. Giokovic, lui della bandolina, occhio al pallone che arriva sul secondo pallo, non c'è fallo, si gioca. Ancora il mancino di Giokovic, la deviazione di Rizzato sul secondo pallo, Tabanelli da sottomisura! Il sorpasso del Cesena in 120 secondi! Gol incredibile, prima rete in Serie B win per il 23enne fantasista, non segnava dal maggio del 2012 decisiva la deviazione di Rizzato. Da opportunista, Tabanelli da sottomisura, sorpasso Cesena. Tocco dentro, Sarno raccoglie sulla tre quarti, prova a esplodere il sinistro, a giro! Si distende Campagnolo e poi riesce a liberare Ceccarelli. Rizzato, vuole l'uno contro uno, premiato nel rimpallo. Ancora Rizzato di prepotenza, il cross dentro, mette fuori Giokovic, carambola, attenzione, Comida sottomisura! Il riflesso di puro istinto di Campagnolo. Calcio di punizione, c'è il movimento di Adesio sul secondo pallo, sbucca Colucci! Sempre Campagnolo, a mano aperta, decisivo! Sarno, dalla banderina, occhio allo stacco di Bari! E poi Ceccarelli, alza sulla traversa. Sarno, azione personale, ne salta un paio, altra sterzata, sempre Sarno, pallone sempre incollato al Mancino, Rizzato al volo! Palla sull'esterno della rete! Spinge ancora la formazione a Maranto, Sarno prova a lottare, arriva Antonazzo, carica il destro da fuori! Palla alta sulla traversa! Finisce qui, il Cesena passa al Granillo 2-1, inguai ancora di più la Regina che non si schioda dalla zona play-out per i Romagnoli, invece, tre punti d'oro!